e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo con una persona ovvero niklen 67 lemon esatto si dice le lemon io non sento un cavolo che ti mangi la golden apple l'anno c'è apple qua la ghepple ah raga fatemi sapere se volete un video di duelli pvp tra me e niklen votate nel sondaggio in alto a destra che apparirà in questo momento che poi suoni e scusate il lag ma non ci posso fare niente ora piccola interruzione ok allora raga oggi siamo come avete potuto vedere come si vede siamo nell'op prison io sono la miniera dolce perché di clam e dirt al parma dosta da steinic ho visto il tonico quello è il mio petto vabbè devi essere un membro dello stato per utilizzare quel comando io voglio fare qui allora se questo se cioè potete iniziare un'oginità destra che appassi prima se volete un video con niklen in pvp duelli e se questo video se questo video arriva a non so 5 like ne chiedo pochi perchè siete in pochi gli iscritti si arriva non 9 non 9 non 9 si ma 9 iscritti vado proprio a vedere chiudi la gestione attività eh se video con niklen laggano la colpa non è mia ma è di discord che occupa un po' di un po' di memoria un po' il mio computer fa veramente fa pena per non dire brutte cose eh si ho sony vegas d'ora in poi vi lo editerò con quello quanto siamo? Già 3 minuti eh niklen se non lo sai io a 5 minuti stoppo ora a 5 minuti per 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 video per andando su youtube direi penso una carica consigliabile vostro posto di video così pensare in posto di più veloce di codifica più veloce che codifica devo metterlo bs noi non mi guardo questi video ragazzi ogni volta mi toglie l'accesso tranquilli allora vediamo un po quanti scritti c'ho madonna mia allora non posso scrivere il mio nome è un po quanti scritti c'ha starter gaming faccio talmente pochi scritti che manco mi trovo sto arrecchendo sì sì magari avrei quegli scritti ecco c'ho 9 iscritti music content allora quindi bellesima volta votate il sondaggio e se questo video arriva a 5 like vi faccio un video del mio plot di redstoneer.com 5 minuti devo tagliare devo fare un po' di taglio eh vabbè guardate cosa hai costringito a fare niklam 67 euro e voi mi dite ehi ma costringilo tu a fare queste cose ehm meglio di no perchè sei in cazza facciano cose brutte ok poi ti spiego scendi dal parkour sei nella 2 ma bm poi il minecraft che non mi carica bella skin ah allora vieni qua facciamo sta benedetta hunt però questo non la taglio eh la hunt troppo originale togli le robe dalle mani non ti mettere azzeccata a me poi si fa no donna mia la rifiuta un attimo vabbè raga ehm niklam gli stanno chiamando le persone su discord non so chi bella skin tizio qui quindi se il video vi è piaciuto mettere mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video è stato gaming è tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti durante l'editing mi sono accorto che si sente poco poco lo scuro di discord che io e niklam usiamo discord per parlare purtroppo non l'ho registrato però non l'ho voluto tagliare perchè fi perchè fa figo che mi sembra che lo iniziano a chiamare ehm perchè non avete visto la parte bianco e nero non ve lo dico sennò non riesco a renderizzarlo in sto video e quindi niente si sente non l'ho registrato niente ciao 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 ciao